benvenuti in questa stupenda villa con piscina in brianza perfetta per chi desidera vivere in un'atmosfera di incredibile comfort e autenticità in un contesto residenziale e lontano dal traffico la villa è stata edificata nel 1993 a caratteri identitari molto rilevanti come il tetto a falde ricoperto con coppi le logge i porticati il bellissimo giardino e la rilassante piscina le proporzioni delle aperture i materiali di finitura delle superfici i portali rendono intramontabile lo stile di questo prezioso immobile l'edificio misura internamente circa 420 metri quadri l'esterno ha una superficie di mille metri quadri la casa è libera su quattro lati privilegiate le viste aperte sul giardino e il rapporto con la natura circostante che incornicia la casa una dimora dalla superficie rilevante con un impianto rettangolare composto da un corpo principale con i locali della villa oltre appartamento trilocale disposto nel corpo superiore nella villa ci sono cinque camere da letto sette bagni due comode scale rivestite marmo collegano i due livelli della casa che conducono direttamente alla taverna locale hobby con camino cucina cantina vini locale palestra bagni guardaroba dispensa locale lavanderia e locali tecnici la taverna è circondata da un funzionale cavedio infine garage di 75 metri quadri che ospita comodamente cinque automobili dimentichi il caos delle città siamo in una villa e l'embrianza dove eleganza e comfort non mancano libertà e privacy abbondanza di spazi prestigio e rappresentanza grazie a tutti